Buonasera a tutti, eccoci all'aggiornamento settimanale. Per quanto riguarda l'emergenza dettata dal coronavirus all'interno della nostra comunità, la situazione persiste nell'essere positiva, ossia non abbiamo concittadini positivi al coronavirus e non abbiamo concittadini in quarantena. Per quanto riguarda i servizi che questa estate abbiamo attivato per i nostri concittadini più giovani, per i ragazzi dai 6 ai 15 anni di età abbiamo deciso di prolungare il servizio di campus estivo anche per le settimane che vanno dal 24 di agosto al 4 di settembre. Il campus nel corso di queste due settimane si svolgerà presso il Cortile del Torchio e presso il Parco Comunale. Tutte le informazioni le troverete da lunedì sul sito del Comune di Inveruno e verranno diffuse per il tramite dei canali di comunicazione del Comune. L'iscrizione per queste due settimane potrà essere effettuata entro il 24 di luglio e l'iscrizione potrà riguardare le due settimane, non si potrà fare una scelta tra l'una delle due per i motivi organizzativi che oramai abbiamo impagato a conoscere. Da alcuni giorni vedete movimento in Piazza Don Reno Villa. Quello che sta avvenendo è un'attività, è una proposta, è un'idea dei nostri ragazzi che stanno frequentando il campus estivo ed è un ci lasceranno un regalo per tutta la comunità. Ancora qualche tempo e scopriremo il contenuto di questo regalo. Con oggi ho deciso di sospendere questa modalità di comunicazione per il tramite dei video che ha interessato tutte le settimane da poco dopo l'inizio della situazione di emergenza. Ho attivato questa modalità di comunicazione in un momento straordinario poiché ho percepito l'esigenza di dover trovare un canale di informazione immediato per potervi fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare nel migliore dei modi l'emergenza stessa. Permaniamo in una situazione di straordinarietà, permaniamo in una situazione di emergenza ma nel corso di questi mesi abbiamo imparato quali sono le modalità con cui affrontare questa situazione di eccezionalità al meglio. Per questa motivazione non voglio abusare di questo strumento di comunicazione che nel qual caso in cui naturalmente se ne ripresentasse la necessità però lo riprenderò. Continueremo a mantenervi costantemente aggiornati sull'andamento della situazione all'interno della nostra comunità con i canali di comunicazione ufficiali del Comune. Io vi invito a continuare a mantenere alta l'attenzione nel corso delle prossime settimane. Vi ringrazio per la collaborazione che avete prestato, per l'aiuto che ci siamo dati in questi mesi difficili che ci hanno però permesso di arrivare al punto in cui siamo quest'oggi. Vi auguro una buona serata, vi auguro una buona domenica e vi auguro un buon proseguimento.